quando si parla di fatturati che devo dire si vede società che prendono giocatori da 100 milioni giocatori così e noi un giocatore ci possiamo permettere a malapena può essere ecco quelle cifre è uno come Robert De Niro ecco l'unico proprio dei laurenti si può far proprio un sacrificio a me non mi piace mica tanto quello che dice Satri cioè sta dicendo delle cose veramente assurde ma come si fa a pagare allora guarda per una cifra del genere ci vengo pure io a giocare ci vengo io a giocare e ti faccio cosa ti faccio vincere il campionato ma vedi sto ma guarda questo va beh mi fa cazzar di svidare la capoccia mannaggia lui mannaggia ma è possibile